Bene, da quando l'altra sera, proprio qui in questo studio del telegiornale, l'assessore dei lavori pubblici del Comune di Fano, Marco Paolini, ha mostrato ai telespettatori il progetto dell'area dell'ex zuccherificio, si discute su quella costruzione, su quei due silos che potrebbero tornare alla luce dopo l'abbattimento di parecchi anni fa. E si discute sulla possibilità o meno di rifarle, qualcuno è favorevole e qualcuno è contrario. Noi questa sera abbiamo al telefono invece il capofamiglia Alessandri che è cresciuto, ha vissuto per tanti anni all'ombra di questi due silos che tra l'altro vi mostriamo in queste immagini di repertorio grazie allo studio fotografico di Paolo Del Bianco. E dicevo, è vissuto all'ombra di questi due silos, e allora intanto buonasera Alessandri. Buonasera. Dunque, lei è tra quelli favorevoli naturalmente, eppure io avrei giurato il contrario facendo le ombra questi due grossi silos, qui li vediamo nel momento in cui vengono abbattuti. Ecco, lei invece è favorevole, perché? E' favorevole, perché è la storia di Fano, è la storia del ponte Metauro, diciamo da 50 anni. A questa parte c'è stato sempre questi silos. Da San Costanzo, camminate, vedevi i silos, e dici lì, è il ponte Metauro. Era un riferimento. E' una storia insomma di Fano, dai. Senta, Alessandri, lei che può essere più preciso, ci può dire quando hanno abbattuto questi silos? Che anno era? Adesso di preciso non lo so, ma circa dieci anni fa, otto anni saranno. No, forse più di dieci anni allora a questo punto. Credo che siano più di dieci anni. Quindi lei è favorevole comunque alla ricostruzione di questi silos? Io sono favorevole, io sono contrario a tutto l'abrogio che hanno fatto. Prima di fare tutti quei capannoni, io avrei disegnato una strada che andava fino giù da Cecchini, in mezzo, dove hanno fatto i capannoni. Ed è pieno di fare una rotonda come usa da tutte le parti. Da noi, e solo qui, c'è una quadrata al posto di una rotonda. Che la gente addirittura la prende contro mano, chi non deve il posto, è un casino. Ho capito. Una rotonda fatta come si deve fare, come c'è dappertutto, insomma. Solo qui al Ponte Metauro è così. Dall'altra parte non si vede, io tanto giro, ma una rotonda quadrata come qui non l'ho mai vista. Ho capito. Grazie, grazie Alessandri.